Sono Sergio Zuin del ristorante Macallè di Momo, ci troviamo in provincia di Novara, in Piemonte. Ci troviamo tra il Lago d'Orta e il Lago Maggiore, in una delle migliori zone risicole italiane, ed ora io vi presenterò qualche piatto delle nostre specialità. Ed ora vi presento un altro piatto locale, ci sono le rane delle risaie, risotto con le rane. Abbiamo la cipolla, uno spicchio d'aglio, del pomodoro, prezzemolo, le rane, il riso e il vino bianco. Sono sette minuti che stiamo cuocendo il riso, abbiamo fatto un soffritto di cipolla e le rane sono quasi cotte, sono a metà cottura, diciamo non cotte. Le tiriamo fuori dal suo brodo, le mettiamo nel riso e continuiamo la cottura per altri dieci minuti. unendo piano piano del brodo di rana, sino a coltura ultimata. Intanto, mentre noi cuociamo le rane, il brodo di rana è stato preparato con una cipolla e una carota. È stato messo su dieci minuti prima, diciamo, con le rane, perché la cottura delle rane è molto veloce, se diciamo la carne della rana si cuoce velocemente. Adesso queste, siamo già a dieci, dodici minuti diciamo, fra quattro cinque minuti noi uniremo il prezzemolo. Ora, a cottura quasi ultimata, mettiamo del prezzemolo e una manciatina di quei pomodorini che avevamo preparato prima. Così, facciamo un po' di colore e creiamo un bel piatto. Ora il nostro piatto è pronto, lo impiattiamo. Mettiamo qualche rana sopra, così, ed è pronto per la gioia del palato.